Ciao a tutti, in questo video della serie trucchetti andiamo a vedere come alleggerire un disco, un computer che è diventato troppo pesante, ossia troppo affollato di file. Prima di continuare con il video ti chiedo di iscriverti al canale per non perdere i prossimi video e di mettere un like qualora il video ti sarà piaciuto. Allora sappiamo che quando navighiamo in internet normalmente andiamo a scaricare dei file, vuoi perché andiamo ad aprire un pdf, scarichiamo un'immagine, scarichiamo qualsiasi cosa e nel tempo con l'uso, soprattutto negli anni, il quantitativo di documenti scaricati diventa davvero eccessivo per cui potrebbe su un disco non troppo dimensionato andare ad occuparne una parte così importante da rendere poi lento l'utilizzo del disco. Ora vediamo alcuni modi per andare appunto ad alleggerire il nostro computer. Ovviamente è possibile andare direttamente a svuotare il cestino. Ricordiamoci che il cestino è pensato per funzionare in questo modo. Io prendo un file, lo cancello dal desktop perché non mi serve più e va in un cestino. Il cestino è il mio ripensamento, ossia no questo file in effetti mi serviva, quindi posso riaprire il cestino ed andare a recuperarlo. Ovviamente questo cestino che ha una capacità limitata ed è impostabile, a un certo punto ha un peso perché tutti i file gli inseriti vanno comunque a pesare sul pc. Cioè il cestino è sostanzialmente una cartella, non è nulla di più, è una cartella all'interno della quale noi andiamo a mettere i nostri file, ma continuano ad essere sul computer. Quindi noi possiamo decidere di svuotare il cestino cliccando col tasto destro e svuota il cestino. Vi ricordo che io sto usando Windows 11 ma quello che faccio vedere funziona benissimo anche con Windows 10. Se voi premete il tastino è quello che ha la forma della bandierina a sinistra della barra spaziatrice vi esce il menu start di Windows oppure se avete Windows 10 potete cliccare qui nell'angolo in basso a sinistra. Una volta che vi appare il menu start premete la barra quella a sinistra dell'1 in alto sulla tastiera e poi battete invio. In questo modo vi escono tutte le cartelle del vostro disco C che è il disco sul quale c'è installato il sistema operativo. Attenzione non andate a cancellare direttamente cartelle così perché soprattutto le cartelle che contengono il sistema operativo, le cartelle degli utenti e i programmi devono essere trattati in un modo diverso. Però ci sono alcune cartelle come ad esempio la cartella temp che potrebbe chiamarsi tmp o temp che può essere vuotata manualmente. Anche se entrate nella cartella Windows dentro Windows esiste una cartella che si chiama temp e anche qua tutti i file che trovate qua dentro possono essere cancellati manualmente. Onde non fare questo tipo di lavoro manualmente cliccate sempre il tasto start e scrivete sensore. Vi apparirà un menu attiva il sensore di memoria. Attivatelo. Questo è un sistema che Windows integra all'interno appunto del sistema che Microsoft integra all'interno sistema operativo che ci permette una manutenzione abbastanza efficiente del disco stesso. Qui vedete che all'avvio del sensore di memoria la procedura ha effettuato uno scan delle tipologie di documenti che vanno ad occupare il mio disco e aprendo su queste potrei andare a vedere da che cosa è composto questa massa di dati. Ma quello che vi voglio fare vedere è l'utilizzo del sensore di memoria che vi consiglio di attivare che è praticamente uno strumento automatico che va a verificare che determinate categorie di file non vadano a riempire in maniera troppo importante il vostro disco. Se cliccate qui sulla freccettina verificate che la pulizia del contenuto sia automatica del contenuto sia attiva così che la procedura funziona automaticamente. Vedete che il mio sensore di memoria verrà eseguito una volta al mese ma qui potete scegliere una periodicità diversa potete decidere dopo quanto tempo vuotare i file che ci sono nel cestino io ho messo 30 giorni quindi quando io metto qualcosa nel cestino è perché sono ragionevolmente sicuro che lo voglio buttare e se per 30 giorni dopo 30 giorni non lo vado a recuperare il sistema operativo me lo cancella definitivamente. Infine qui c'è la possibilità di gestire automaticamente i file che vengono salvati nel cloud. Qui avete la possibilità di eseguire ora il sensore di memoria quindi se eseguito va a fare un certo tipo di pulizia quindi andrà a carcellare la cartella download, i file nella cartella temporanea, stronchi di file che sono rimasti appesi dovuti a disinstallazioni andate a buon fine eccetera. Tornando indietro di un passo avete consigli per la pulizia anche qui se lo aprite la procedura vi fa vedere i file temporanei quindi dei file temporanei che sono stati creati per creare qualcos'altro normalmente si tratta di cestino e download la cartella download che contiene i vostri i file che avete scaricato ma nei file temporanei ci possono essere anche dei pezzi di file che il sistema operativo ha utilizzato per fare qualcos'altro e che però non servono più. Poi abbiamo file di grandi dimensioni o file inutilizzati e qui se ne trova il sensore di memoria ve li mostra e chiaramente vi chiede se può procedere con la cancellazione. File sincronizzati con il cloud non ne ho e app inutilizzate scusate ho sbagliato schiacciare app inutilizzate vi fa vedere alcune app e il il loro peso sul disco che voi non utilizzate da un certo tempo ad esempio guardo questo che era un metronomo che avevo proprio utilizzato per un video di youtube che pesa 12 mega non è tantissimo sul mio disco però posso andare a selezionare questa app e vedete che qui il tasto pulisci mi si attiva dicendomi cosa vado a liberare qualora lo vado a premere. Andiamo a vedere se c'è qualcos'altro che non uso film e tv di microsoft non lo uso quindi sono arrivato a 26 mega. Clicco, le app selezionate verranno definitivamente disinstallate quindi posso continuare e sono andato in questo caso a liberare quei 30 erotti mega dal mio disco. Andate a fare queste verifiche perché potrebbero esserci delle app soprattutto nei portatili preinstallate dal produttore che occupano parecchio spazio su disco oppure app che si sono installate nel tempo con l'uso ordinario del vostro pc. Spero che il video vi sia piaciuto come vi ho detto prima iscrivetevi al canale per me è importantissimo per la crescita del canale ci vediamo alla prossima ciao